Le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 17 anni, compresa l'attuale, si ricordano che esistono questo ed altri quartieri solo in occasione delle campagne elettorali. È l'accusa del Partito Comunista Italiano che punta i riflettori sullo stato di degrado di Fano II. Sporcizio ovunque, escrementi di cani disseminati nel parco giochi e una totale assenza di controlli, con schiamazzi e cori da stadio notturni e persino risse. A dir poco vergognoso, secondo il Partito e i residenti, è lo stato di Piazza Capuana, con una fontana semidistrutta e non funzionante, che è l'emblema dell'abbandono della zona, rappresentando al tempo stesso un potenziale pericolo per i bambini e i ragazzi che giocano. Abbiamo voluto fare questa denuncia perché vediamo che l'amministrazione comunale di Fano ha fallito tutti i suoi obiettivi. Per questo quartiere, penso che sia sotto gli occhi di tutti, non si può lasciare una piazza come questa all'incuria. Voglio dire, sono 25 anni che la situazione è questa. Oltretutto manca anche la cura minuta, nel senso che quando i cassonetti traboccano, le isole ecologiche vengono trasformate in discariche. I cestini dell'immondizia sono pochi e traboccano di rifiuti di ogni genere. Poi vengono svuotati ogni tanto, ma appunto ogni tanto. Hanno costruito o fatto uno sgambatoio, che non è uno sgambatoio perché è un recinto per cani e non ha risolto proprio nulla, perché non è quello il modo di risolvere questo problema. In un quartiere ci vogliono ben altre risorse, ben altre strutture e manca la cura più spicciola, che dovrebbe essere la prima preoccupazione di un'amministrazione comunale. La soluzione a questi problemi, secondo il PC, non può più essere rimandata, d'accordo anche tanti residenti, che chiedono più verde ma anche soste per le auto. Infatti molti sono costretti a parcheggiare lungo via Roma. Perciò gli spazi non c'è, hanno messo in tutti i buchi, hanno fabbricato il più possibile. C'è una striscia di verde piccola, diciamo, per il quartiere qui a Monte, che il comune è da 40 anni che la deve espropriare, insomma, per farci qualcosa in questo quartiere. Quando noi abbiamo comprato casa, il costruttore ci diceva che in quel lembo di terra sarebbero venuti anche dei parcheggi, tant'è che nel nostro palazzo hanno lasciato anche le porte dietro e questo non se ne è più parlato. Poi manca che qui i bambini, dove giocano? In questa piazza. E hanno ragione, non hanno un altro posto. E tanto, ecco, passano le carrozzine quando ci sono i bambini, quando ci sono quelli che giocano, è pericoloso. Passano le persone anziane, ti prende una pallonata, è pericoloso. Però questi ragazzi dove vanno? Dove vanno? Per questo, nella stessa area a cui faceva riferimento la signora Maria Valeria, chiedono di realizzare, oltre a nuovi stalli per i veicoli, anche uno spazio dedicato ai ragazzi. È un richiamo, un richiamo forte, che facciamo e lo uniamo a tanti altri richiami che stiamo facendo. Cioè, il nostro ruolo, anche di chi a cuore la città è stato candidato, e rappresenta anche sensibilità, liste civiche, insomma, proprio comunali. E anche quello di un attimino andare a stimolare questa giunta, che la vediamo un po' immobile in generale. Allora, vediamo un po' di dargli un po' la sveglia.